Il terzo corso di chirurgia laparoscopica del colonie del retto che facciamo, lo facciamo ogni due anni e questo è stato posticipato perché due anni fa abbiamo fatto il congresso nazionale. Perché? Perché insegnare la chirurgia attraverso chirurghi di altre città che hanno partecipato a lanciare la chirurgia laparoscopica lo si fa soprattutto facendo vedere alla gente quello che si fa, facendola vedere in diretta. Quindi in questo corso verranno operati 10 persone, 5 da Alessandria e 5 da altre città, gli interventi verranno trasmessi in diretta nella sala dell'ostedale e il numero è chiuso a 100 partecipanti. Credo che sia il modo migliore per poter discutere e aggiornarsi sulla chirurgia. Finiti gli interventi ci sarà una revisione delle registrazioni di quello che è stato più interessante durante l'operazione e una discussione con tutti quelli che sono partecipanti al corso. Credo che il confronto sia l'unica maniera di poter progredire in quella che è la cultura e la sicurezza del paziente.